Notte folle ad Arzignano. Un 47enne sudamericano devasta il comando della polizia locale. È passata l'una di notte quando il 47enne a bordo di un Apollo si lancia contro il cancello del comando, sfonda la porta d'accesso anteriore ed entra all'interno. L'assalto fa scattare l'allarme alla stazione dei carabinieri che immediatamente accorrono e con loro anche il comandante della polizia locale e il suo vice. Agenti e militari arrivano sul posto mentre l'uomo sta cercando di andarsene con una moto della polizia locale. Viene bloccato ma la sua reazione è furiosa, spacca e distrugge tutto ciò che gli sta attorno, devastando la sala di videosorveglianza. Bloccato dagli agenti e dai militari, il 47enne sudamericano non esita a prendere a morsi il comandante della polizia locale Antonio Berto ad una gamba e il suo vice barco alla mano. Prognosi per i due, dieci e cinque giorni, feriti anche due carabinieri. Abbiamo tentato di bloccare nella maniera più semplice possibile questa persona, però questo si dimenava, ha fatto di tutto e di più, è scappato, ha calciato pugni. Il nostro servizio continua, questi sono gli incidenti, come dico io, del mestiere. Spero che queste cose non accadano più perché questo, come altri fatti successi recentemente, stanno lasciando il segno all'interno del mio comando. Alla fine il 47enne viene immobilizzato, arrestato e portato in cella a Montecchio Maggiore. Dietro di sé però ha lasciato danni tra i 20 e i 30 mila euro. Processato per direttissime, è stato condannato a dieci mesi con la condizionale 500 euro di multa. L'uomo, incensurato, ha chiesto il patteggiamento e pertanto gli sarà chiesto il risarcimento civile per danni a cose e persone. Dura la reazione del vice sindaco e assessore alla sicurezza. Una situazione folle. Per fortuna è stato subito arrestato, ma quello che noi chiediamo è che personaggi di questo tipo devono ritornare a casa loro.